Tre persone sono rimaste ferite oggi in un incidente stradale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti sulla Salerno Reggio Calabria per il sinistro verificatosi nella galleria Serraspiga lungo la corsia Nord. Due autovetture per causa in corso d'accertamento si sono urtate ed una delle due si è ribaltata all'interno della galleria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per i soccorsi. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportate in ospedale dal 118. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e l'ANAS. Il traffico lungo l'arteria autostradale non ha subito interruzioni ma solo rallentamenti per la riduzione ad una sola corsia di marcia. Grazie per la visione!